Allora, amici, tornando alla puntata Chatter Story, c'è un personaggio che ho affrontato varie volte nei videogames, e tra l'altro è un altro personaggio Warner, è un personaggio che è molto strano, perché lui non parla di solito, ma fa sempre dei strani versi, tipo... Chi è che lo conosce? Se lo conoscete, allora avete vissuto una grandissima infanzia! E infatti il personaggio è il diavolo della Tasmania, ovviamente Taz, un personaggio molto cattivo e aggressivo, uscito come l'ultimo personaggio creato dalla Warner Brothers Classic Cartoons negli anni 60, prima della definitiva chiusura. Ma ha mai avuto una vita vidludica? Sì! Il primo gioco dedicato a lui uscì negli ultimi giorni di vita dell'Atari 2600, chiamato semplicemente Taz, nel 1983. Un gioco d'azione semplice che non conosce nessuno, e infatti dobbiamo aspettare l'inizio degli anni 90 per rivederlo nel gioco chiamato semplicemente Tasmania, un gioco creato in occasione della mitica serie televisiva, doppiata qua in Italia da Pietro Baldi. Un cartone animato super, e il gioco non era un granché, però infatti lo dobbiamo rivedere in uno dei suoi migliori giochi chiamato Taz in Escape from Mars, gioco d'azione, rilasciato per Mega Drive, Master System e Game Gear. Titolo geniale e divertente ovviamente, certo esistono anche addirittura per Super Nintendo e Game Boy ovviamente, ma con l'arrivo della PlayStation uscì Bugs Bunny e Taz Time Busters, un gioco che era un po' tipo Bugs Bunny Lost in Time, ma non c'è il personaggio. Poi nel 2002 compare come protagonista nel gioco Taz Wanted, per PlayStation 2 e GameCube Xbox, poi comparve addirittura come personaggio così secondario ma non utilizzabile in Bugs Bunny Crazy Castle 2, o Bugs Bunny Birthday Blowout, o Looney Tunes Acme Arsenal, o Looney Tunes Space Race, o Bugs Bunny Crazy Castle 3 e anche 4, e anche nel tiny video ludico del film Looney Tunes Back in Action, ma comparve anche addirittura in altri videogames. Per esempio lui comparve anche addirittura nel videogame taino e videoludico di Scooby-Doo 2 Monsters Unleashed. Tutto qui. È quello che sappiamo su quanto riguarda la vita ludica di Taz, pochi ma buoni giochi. E il personaggio chi è? È semplicemente un diavolo tasmaniano, che esiste davvero ovviamente, che è un mammifero molto aggressivo. Non è tipo il ghiottone, però ci siamo quasi. Ma mai avuto un mercato promozionale? Beh, come avete capito, era nato come personaggio dei cartoni animati Warner nel 1954 e purtroppo rimase sulla cresta dell'onda per pochi anni. E dopo quando nel 1964 la Warner decise di smettere di produrre i cortometraggi animati per la tv, il personaggio cadde nel silenzio. Ma ritorno a Inauge inizio anni 90 con la serie televisiva chiamata Tasmania, che lo portò ad avere un carattere un po' meno irascibile, ma sempre lo stesso tipo un po' scorbutico rimaneva, e anche ad avere una famiglia. E poi, tra l'altro, può anche addirittura messo in altri cartoni animati, ad esempio, in tantissimi altri cartoni che riguardano i Looney Tunes. Un esempio? Looney Tunes Show, oppure addirittura nel film Space Jam, oppure Looney Tunes Back in Action. Lui c'è sempre, ma più come personaggio secondario che come protagonista. Poi altra questa non ha rilasciato moltissimi gadget per la scuola, che lui era sempre icon primari tipo Bugs Bunny e Silvestre Titti e tanti altri, e anche addirittura qualche action figure e pupazzi che gli hanno messo in venita anche qua in Italia. Insomma, non manca niente dedicato al personaggio che merita parecchio. Grazie a tutti. I have a new trick to teach you, Bugs. I'm ready, Granny. This is a special move called the Super Roll. With this action, you can go through little holes, and you can also eliminate many adversaries at the same time. Try it now to recover this gear. Recover. The Super Roll. The Super Roll. The Super Roll. Grazie.